E' di almeno 29 morti il terribile bilancio delle vittime dell'incidente che ha visto un bus turistico ribaltarsi e precipitare sopra una villetta Madeira in Portogallo. I morti e i numerosi feriti sono stati portati all'ospedale della capitale dell'isola. Sull'autobus viaggiavano 55 persone, in prevalenza si trattava di turisti tedeschi. Lo schianto è avvenuto mercoledì pomeriggio attorno alle 18.30 nei pressi della cittadina di Canizzo. L'autista ha perso il controllo del mezzo, è uscito fuori strada ed è piombato su una casa, probabilmente per un problema ai freni, mentre affrontava una curva molto stretta.